Sembra solo una questione di poche settimane. L'iter per il trasferimento del mercatino settimanale del sabato da Pian del Lago a via Ferdinando I e alle fasi conclusive. La nuova sede potrebbe essere in realtà già entro la fine di febbraio. Nei prossimi giorni l'assessore comunale allo sviluppo economico Giovanni Guarino incontrerà le rappresentanze sindacali di categoria per fare il punto della situazione. Già effettuati diversi sopralluoghi nella zona, che dovrà accogliere tutti gli operatori commerciali che ogni sabato sono presenti a Pian del Lago, complessivamente oltre 250. Intanto a Balate Pinselli, zona che annovera anche via Ferdinando I, oggi l'assemblea generale del comitato di quartiere si riunirà nei locali della parrocchia San Marco per affrontare i problemi, per fissare i prossimi obiettivi e infine per rinnovare le cariche. Il presidente Carmelo Bosco rivolge un appello agli iscritti e ai simpatizzanti nonché ai residenti, agli esercenti del comprensorio Balate Pinselli e ai cittadini a cui stanno a cuore le sorti della città. Sono vivamente invitati a partecipare e a portare il loro contributo al dibattito con interventi e proposte fa sapere in una nota diffusa nelle ultime ore.